io devo essere molto sincero con voi molto tutto riesce a cambiare e a modificarsi nell'arco di 5 minuti stavo accendendo per questo il video uscirà un po' in ritardo stavo caricando il solido video delle 18 e 30 stavo venendo quasi col forconcino in mano non perché voglio ritirare tutto quello che abbiamo detto nei giorni scorsi per me giuntoli stavo lavorando la grande ma oggi erano uscite le dichiarazioni di Percassi presidente dell'Atalanta nelle quali attestava che The Un Cop Miners non era in vendita tanto meno la Juventus ed eccoci al Bologna 2.0 ancora una volta a quel punto io dico ma se tu mi molli calafiori perché devi dare 60 milioni all'Atalanta per Cop Miners e se tu non riesci a far uscire Sule non riesci a far uscire Chiesa non riesci a far uscire Hausen che sono i tre da dove devi mangiare più soldi per quanto concerne l'entrata e se tu devi buttare via 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 come abbiamo sempre detto i vari Desciglio i vari Costic i vari Milik i vari Scesni i vari McKennie i vari Arthur tutta la sommatoria di pattume che abbiamo all'interno del ripostiglio quando apro ti casca tutta la cacca addosso eccoci che abbiamo chiuso il colpo abbiamo il terzino sinistro abbiamo questo cavolo di difensore dal piede mancino perché lo chiamo difensore? ora ci arriviamo finalmente finalmente sopraggiunto ma c'è un però c'è un però c'è un però ragazzi ma prima di dirvi sto però azionate quel benedetto tastino dell'iscrizione del mi piace peccato perché facciamo tante visualizzazioni però la percentuale tra i like lasciati e gli spettatori veramente poco cioè su 400 500 ci sono 20 like oh che vi costa fare il tiraggio sto dito piazzate dai questo però che cos'è? è il fatto che l'abbiamo fregata all'Inter una vera e propria operazione stile Bremer nel 2022 cosa ha convinto Juan Cabal David de los Munoz del cabrón de la Madonna a venire alla Juventus un leggero aumento sull'ingaggio sì esatto stiamo parlando di Juan David Cabal terzino sinistro barra difensore centrale 1,86 1,87 abile nel portaramati il pallone abile di testa una classe 2000 a 1 molto molto interessante che aveva raggiunto l'accordo con l'Inter Marotta si era mosso insieme ai suoi subalterni affinché il difensore aveva fatto tipo una settimanella intera di di trattativa per portare il difensore a circa 9 milioni dall'Elas Verona all'Inter eccoci che io prima di accendere questo benedetto computer eccolo qua santo e venerato arriva la notizia di Marzio alt fermi stop cabal e i suoi agenti o meglio gli agenti di cabal sono a Torino per lavorare e parlare con Cristiano giuntoli e la Juventus ha alzato di almeno un paio di milioni l'offerta dell'Inter si è passati dai 9 dell'Inter ai 10 barra 12 più leggero aumento di stipendio al difensore per accaperrarselo che strano che strano veramente proprio perché l'Inter l'aveva appena preso l'aveva appena preso cioè era fatta la Juve si stava concentrando per Todibo la situazione era stagna cioè ragazzi guardate anche i miei ultimi video lasciamo stare che gli ultimi tre giorni non si è parlato ma guardate i miei ultimi ci si parla sempre della stessa cosa ci si parla del fatto che la Juventus è ferma è immobile è bloccata non può fare manovre non può fare mosse perché non escono i giocatori i giocatori che sono ampiamente già detto stradetto fuori dal progetto di Tiago Motta non li stiamo riuscendo a piazzare e quindi come un fulmino al ciel sereno è arrivata questa cosa sono abbastanza stupito sarò super sincero non conosco il cacciatore ho visto giusto qualche video magari potremmo fare una reaction ma domani c'è mi raccomando alle due la conferenza stampi di Tiago Motta uscirà il video alla reaction subito dopo la fine della conferenza stessa quindi non riusciremo a fare questa cosa ma il calciatore sembra un buon prospetto ma finalmente abbiamo questo difensore come dicevo all'inizio del video di piede mancino che ci mancava tanto ci mancava tanto perché tu hai Rugani hai Gatti hai Bremer hai Danilo hai Giallo tutta gente destra destrorza ti mancava il centrale e anche Todiboh è un destro e quindi saresti stato veramente con diciamo un problema grosso ma Cabal credo verrà impiegato come vero e proprio terzino sinistro e a quel punto mi viene da pensare che Cambiaso possa andare a destra Cabal è anche adattabile difensore centrale lo ha fatto all'Elas Verona difensore di proposta da affiancare beneamente bellamente al centrale più marcante più marcatore più ercoliano che ovviamente Gleison Bremer una difesa praticamente i titolari dovrebbero essere quasi tutti sudamericani ma no non credo sia quello adesso l'obiettivo però nel senso io credo che lui verrà adoperato come terzino sinistro bello di spinta sarà che io mi accontento che sia l'Alexandro di inizio carriera la Juventus è l'Alexandro del Porto ora penso che stia anche sparando alto di Alexandro purtroppo abbiamo un orribile ricordo a causa della recente della diciamo la recente carriera di Alexandro che come al solito come in tutte le cose nella vita ci fa dimenticare ciò che è stato c'è una cosa brutta vale più di mille cose buone fatte prima ma Alexandro all'inizio della carriera con la maglia della Juventus ovviamente strappagato un sacco di milioni abbiamo pure rinunciato 60 milioni dal Chelsea per l'Alexandro madonna madonna lasciamo perdere era comunque un ottimo difensore era risalito diciamo era la era sotto il vespro era la la chioccia di Evra appunto lo stava facendo crescere sotto le sue aree protettive effettivamente la miglior stagione è stata la 16-17 e anche un po' la 17-18 quella di Alexandro poi dopo siamo finiti negli abissi e quindi io mi accontenterei che questo Cabral sotto le mani di Tiago Motta visto che stiamo prendendo un sacco di sudamericani possa veramente fuoriuscire e far fuoriuscire ancora di più le sue doti le sue caratteristiche abbiamo detto un ottimo piede un buon mancino che può impostare le azioni ripetisco sono qui anche senza troppe cose da dire per quanto riguarda questa roba qui il focus del video prima era quello di Copminers e da vedere la situazione qual è perché ripetisco se tu volevi lasciare perdere calafiori per lui non prendi neanche lui non vi dico che inizia ad essere un mezzo fallimento però obiettivi che sfumano obiettivi che sfumano sono sempre creano dissapori no? all'interno anche della società stessa all'interno anche anche l'allenatore magari si aspettava determinate cose e quindi niente e quindi adesso bisogna fare usci cioè adesso non riusciamo più a comprare cioè se non veniamo a sciorinare questa maledetta situazione di questi tre soprattutto questi tre ovvero Chiesa Hausen e Sule ragazzi non ci si muove è inutile sparare nomi tra l'altro veramente anzi è l'ennesimo colpo tutto un tratto che arriva dal nulla di Giuntoli quindi applausi perché sta riuscendo a fare un mercato assurdo un mercato assurdo senza soldi già di per noi figuratevi se non escono i giocatori ragazzi c'è una lista di 10-12 persone che devono andarsene fuori da Maroni mica 3 mica 4 10-12 10-12 eh santo e poi Dio cioè qui che cosa gli si può dire aggiuntoli eh non abbiamo preso Calafiori eh non abbiamo preso Copminers vero l'ho detto appena adesso io se si sfumano gli obiettivi prefissati non è bellissimo però caspita cioè guardate qua si continua a tirar fuori i soldi chissà in che formule non lo so sti 10-12 milioni saranno pagati 278 esercizi però io fiducia fiducia nello chef fiducia nel direttore fiducia in Tiago Motta eh si continua ad alzare il livello qualitativo questo lo possiamo scoprire soltanto vedendo eh cosa ne sarà della Juventus di Tiago Motta ottimi gli allenamenti ottimi le impressioni che mi stanno dando a livello di vibes il gioco palla a terra tante cose però ragazzi ebbene dovete andare ragazzi fuori dalle palle fuori dalle palle qui c'è da crescere dai ragazzi vi saluto ci vediamo domani per la conferenza stampa di Tiago Motta finalmente lo sentiremo parlare secondo me sarà anche un bello noiosetta eh tra Allegri e Tiago Motta il content maggiore lo dava il Livornese Tiago Motta domani non si sa che può dire ragazzi fatemi sapere nei commenti chiaramente cosa ne pensate del colpo cabal se vi fa più piacere il fatto che abbiamo preso un nuovo calciatore se vi fa più piacere il fatto che l'abbiamo rubato all'Inter ditemi la vostra io vi aspetto qui sotto per il resto ci sentiamo domani